Siamo qui con il mister della Time Sport Luigi Guidi, buonasera, ben trovato, è appena terminata la partita, comunque ottima vittoria e tantissime occasioni grandi da una parte e dall'altra e più o meno per tirare un po' le somme di questi primi due mesi di campionato, sicuramente penso, più positivo che negativo, comunque solo due sconfitte stavo dicendo prima con Ana, contro due avversari che si giovano comunque nei primi tre o quattro posti, quindi forse qualcosa da rivedere in questi frangenti però comunque c'è tanta unità di gruppo, tanta qualità e i gol li fate sempre. Cosa ci racconta lei, come vede le ragazze in campo e quali sono anche i propositi per l'anno nuovo? La squadra oggi ha dimostrato carattere, voglia e di fare riscatto alla partita che abbiamo perso l'altra settimana una partita che è una delle classiche partite che nascono storte e finiscono storte, perché il risultato è bugiardo ma non perché loro non meritavano, perché noi non abbiamo lo giocato e quindi ho chiesto una reazione, ho chiesto di essere motivati per vincere questa partita avevamo delle assenze, non avevamo Vitale, non avevamo Serena Sias, avevamo Anastasia che era riuscito a fare dell'infantire avevamo un po' di problematiche in queste ultime partite, però è stata una grossa prestazione, una grande prestazione ci rilancia insomma adesso per il futuro, faremo un buon Natale, ci prepareremo e saremo pronti insomma a giocarci quantomeno i playoff, vediamo un attimino di arrivare tra il primo e il quattro, poi vediamo cosa succederà come dici tu, San Lorenzo e la Roma sono due squadre importanti, squadre forti e organizzate per arrivare fino alla fine in alto comunque appunto avete dimostrato anche avendo battuto l'FP5 circa un mese fa e comunque avete la possibilità effettivamente di fare male a tutte le avversarie, effettivamente la partita della settimana scorsa bugiarda nel risultato, appunto come già ha detto lei partita male e finita quasi, non peggio perché alla fine avete quasi provato una rimonta però era troppo complicata visto il divario di reti era troppo complicato e ci siamo un pochino mosse tardi, ora bisogna anche vedere e valutare se loro hanno anche rallentato quindi una partita che noi accettiamo la sconfitta, facciamo i complimenti a Roma, ma siamo lì pronti a riscattarci e di cominciare alla grande quando finiamo solo queste feste natalizie comunque è più importante chiudere in bellezza, comunque l'anno, ottima vittoria, molto larga nel risultato, comunque è meritatissima esatto, facciamo i complimenti a tutti voi sono d'accordo, grazie e faccio auguri di buon Natale a te e a tutti insomma e grazie mille, anche a voi, saluto la squadra, grazie mille buonasera a tutti